Sindaco Roberto Tonon, sono ore di concertazione politica delicata, qual è il vostro progetto per Piazza Meschio? Piazza Meschio era una delle priorità fissate nel programma di mandato e resta la priorità attuale. Il Consiglio Comunale l'altra sera ha bocciato la proposta che è venuta, cioè che per la prima volta il Comune si assumeva l'onere, pur chiedendo i danni ovviamente a chi era inadempiente, si assumeva l'onere di mettere Piazza Meschio come opera pubblica con il finanziamento di un eventuale supermercato che, la cosa sarebbe di pesa anche dalla Regione, sarebbe stato proposto. Così non è andato e quindi l'intenzione del Comune, di questa amministrazione, è di mantenere l'impegno su Piazza Meschio, cosa che le precedenti amministrazioni non hanno fatto, spostando alcune opere pubbliche a danni successivi. Quindi questo sarà il modo per trovare il finanziamento. La seduta recente del Consiglio Comunale ha visto un impasse di maggioranza, che cosa succederà ora? Beh, è successo un impasse che era, lo dico molto francamente, inatteso, ci siamo spiegati successivamente, c'è stata, come dire, una incomprensione riguardo a un voto, anche perché in questa maniera non si è bocciato il supermercato, che non era ancora previsto. Si è bocciato un elenco opere pubbliche, fra cui anche 330 mila Euro, che servono per mettere a posto tutti gli immobili del Comune, comprese le scuole, su cui devono andare a settembre gli alunni e gli allievi delle nostre scuole vittoriesi. Quindi noi riproporremo a brevissimo questo elenco di opere che sono assolutamente necessarie e quindi l'assestamento di bilancio. Mi auguro che questa volta, ovviamente, pensando non solo alle beghe e agli interessi personali, ma al bene dei nostri ragazzi, finalmente questa volta il bilancio passi.